Perinelli sporca al muro di Brescia che può contrattaccare Bridi per Zvetnic, tiene Grobelna in difesa, poi non riesce a contrattaccare Chieri, al secondo tentativo Perinelli, miracolo di Bridi ma c'è una free ball per Chieri, Bosio per Zambelli, il muro di Brescia che può ricostruire questo pallone con Villani, con Veglia la palla per Jasper Zvetnic, ancora la difesa di De Bortoli, Bosio per Grobelna a segno, Kaja Grobelna, il punto numero 21 ma grande scambio. Bellissimo scambio questo, bellissimo scambio, fa vedere proprio che la voglia di giocare c'è, al di là delle difficoltà. Miriam Silla, poi Orro dopo una bella corsa, tiene in difesa Adams, poi si ripropone per attaccare, ma anche parrocchiale, difende bene, poi la palla per Flow Miners, Legonu per Golo, che botta. Mamma Simone che palla questa, ti giuro che hai i brividi perché da giocatrice ti posso dire che una cosa, una palla del genere, un angolo del genere non può tirare soltanto lei. Cosetti va su Merlo, c'è Malinov, palla per Ljubljana ad una mano, Sansona dopo il tocco di Anko che alla fine è free ball da sfruttare per Scandici, ma che salvataggio che ha fatto Novara, ancora Sansona a salvare, poi Bosetti verso Smarzek, si rigioca dopo il tocco del muro di Scandici, Bosetti palleggia per Herbos, 23 a 23. Questo è un punto d'applausi per Novara perché veramente ha salvato per due volte un punto quasi fatto, poi alla fine Bosetti così, mamma mia. Poi Bosetti così. Colas, Stefania Enright, Valentina, apertura in quattro per Calia, Lanier sfonda al muro ma può recuperare Frey Albrecht che si autocopre, ancora Velcova, difesa per Bergamo, Saraloda, la palletta di Saraloda, Valentina, ancora Saraloda, ancora l'attacco del capitano rosso-blu, Colas per Serena Ortolani, la palla spinta, tengono in qualche modo le ragazze di Bergamo, ci sarà una free ball ora per Perugia, vediamo come la gestisce Agrifoglio, Serena Ortolani, la difesa di Valentina, un punto importantissimo, Lanier, la palla cade in mezzo a Colas e Carcasses, punto numero 22, parità, 22 pari al Palagnelli di Bergamo. Grazie.